Musica La libertà per me è uguale alla libertà, perché la libertà di una persona finisce quando inizia con quella di un'altra e se tu invadi lo spazio a lui non c'è più rispetto, niente più libertà. 1. Non farmi rispetto, esigo rispetto, denuncia l'abuso, non rimani deluso, se combatti la gentilità fai vincere la legalità, se rispetti la legge ne le protegge, essere legale e antisociale, denunciare la maggior difesa e poi così sconfiggere l'offesa, essere contro la violenza di sicuro fa la differenza. Musica 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 Musica